Contributi europei per l'agricoltura, se ne è parlato oggi in un convegno presso il comune di Casamicciola parliamo con il primo cittadino Castagna. Questo convegno è stato organizzato perché c'è una deadline, un termine ultimo. Sì, in effetti mi aspettavo una grossa partecipazione e così è stata. Si vede che effettivamente non abbiamo perso quelle che sono le nostre antiche tradizioni però è anche vero che dobbiamo affacciarci al futuro, nel senso che forse abbiamo perso tanti treni nel passato nel senso che magari non abbiamo approfittato di quelle che erano le possibilità che ci vengono offerte dall'Europa. L'amministrazione che io mi onero di guidare è sensibile a queste cose e quindi ringrazio l'assessore Cimmino che si è proposto ad organizzare questo primo incontro perché ce ne saranno altri. Crediamo in questa possibilità, nel senso che il cittadino più volte non crede al finanziamento, vede qualcosa di molto lontano perché magari da un primo approccio sembra tutto difficile, sembra tutto impossibile accedere a un finanziamento. Invece non è così. Quando si seguono delle linee guida, quando magari c'è alla... ecco perciò ringrazio pure il dottor D'Agostino che è venuto dalla regione Campania quando ci stanno le persone che dietro già sanno, magari ecco, ti rispondono in maniera diretta così come oggi è stato, cioè è stato proprio un confronto dove pure le persone ecco, i semplici contadini hanno domandato, scusate ma così come funziona? Cioè quelle domande semplici che magari subito la persona riesce a darti in là e magari ecco la persona subito riesce a percepire se o no può poter accedere a quella forma di finanziamento da un'altra. Ecco questa è la cosa che ci ha fatto oggi iniziare e continuare sicuramente da qui a qualche mese. È una misura che l'Europa finanzia per chi aderisce alla produzione integrale, cioè a basso impatto ambientale. Il termine è il 15 di giugno per cui il Comune ci ha assistito nel andare quanto più tempestivamente è stato bravissimo in questo per cui abbiamo divulgato tutte le tecniche e le strategie per ridurre l'impatto ambientale che l'Isola Dischia sta già attuando, già con un bel gruppo di aziende. Però abbiamo divulgato che possono aumentare il numero di aziende perché l'Europa dà questa possibilità di far partire di nuovo il bando per cinque anni da quest'anno per ridurre l'impatto ambientale con delle semplici tecniche che sono la concimazione, quindi facendo un piano di concimazione e ovviamente riducendo i prodotti fitosanitari.